Salve telespettatori di Cilento Channel, oggi siamo in compagnia di Maria Cuono, una cittadina di Agropoli e cerchiamo di darle una mano attraverso questa intervista perché Maria da poco, precisamente il 2 giugno, ha perso la madre e vive da sola, però ha difficoltà perché oltre a lei c'è anche sua sorella. Ora nel dettaglio ci spiegherà a Maria quali sono le difficoltà che ogni giorno si trova ad affrontare e che cos'è che chiede alla città di Agropoli, ma non solo, per poter andare avanti e per poter avere una speranza e vivere dignitosamente. Allora Maria, brevemente vogliamo raccontare la tua storia e cercare di lanciare un messaggio a coloro che poi guarderanno questo servizio. Allora, giustamente come hai detto te, io ho perso mia madre il 2 giugno, le difficoltà ci sono perché io sono disoccupata e poi ho una sorella che vive in una comunità terapeutica e insomma dobbiamo sostenerci tutte e due. Io che cosa cerco? Cerco un lavoro dignitoso che mi aiuti ad andare avanti perché le spese ci sono, ci sono le bollette da pagare, la luce, il telefono. A maggio per esempio ho pagato l'IMU, poi c'è la spazzatura, è arrivata anche la spazzatura. E questo chiedo, se è possibile, è anche un contributo dal comune. Io fra l'altro recentemente mi sono ricata, io stesso in comune ho protocollato una pratica. Sì è vero, io ai fini dell'ISE supero anche il reddito, però quello che vorrei dire, io non mangio le pareti di casa. Questo è il discorso. Io sono laureata, fra l'altro è anche abilitata all'insegnamento per materie letterarie. Lo scorso anno ho sostenuto anche un concorso riservato ai soli abilitati, però per il momento non si sa ancora niente perché devono smaltire prima la graduatoria di coloro che hanno sostenuto il concorso nel 2016 e poi le GAE, le graduatorie esaurite. Quindi prima di arrivare a noi ci vorrà un po' del tempo. Io andando che faccio? Non posso stare con le mani in mano senza fare nulla. Tu intanto ti sei attivata per cercare di trovare qualche lavoretto che ti possa dare la possibilità di sostenerti? Sì, sto facendo qualcosa ma è molto faticoso perché sono lavori che tu puoi fare anche nel periodo estivo ma sono lavori che purtroppo poi il fisico, l'organismo se ne va proprio perché i problemi di salute ci sono, anche io ho i miei problemi di salute e questi sono lavori che non si possono fare per sempre. Io vorrei anche lanciare un appello all'Imbes e spero che arrivi questo messaggio. Io andata il 17 giugno ho inoltrato per mia sorella la domanda per avere la revessibilità di pensione di mia madre. Effettivamente non so quando le toccherà, però so di certo che quando mia madre, un'ex dipendente pubblica, insegnava nelle scuole alimentari e quando c'era l'imbed up le cose erano diverse. Ora hanno unito, non so da quando hanno unito insieme, diciamo ex dipendenti pubblici, ex dipendenti privati, non se ne è capito più niente e quindi io non so la percentuale che a lei le spetta. Questo non lo so ancora, però io una cosa voglio dire, il mio messaggio è questo, di non sottoporla a visita perché per lei sarebbe un ulteriore stress psichico. E questo lo dico anche per l'accompagnamento perché il prossimo anno sarà soggetto a revisione nel mese di marzo. Io dico queste cose dovreste farle già di ufficio perché mia sorella, per le condizioni in cui sa che vive in un mondo tutto suo, se le vai a chiedere quanti anni ha lei ti dice ho vent'anni, tanto per fare un esempio, è una persona che comunque non guarirà più, anzi più passerà del tempo e più sarà peggio. Ecco questo è il discorso. Noi ringraziamo Maria Cuono e quanti vorranno sostenerla e magari darle un'altra possibilità per cercare di poter andare avanti e vivere, come dicevo all'inizio, una vita dignitosa. Grazie. Grazie.